C'è un concetto che sto cercando di far passare in tutti i modi, che è abbastanza semplice e vago. E ogni volta che ne parlo, ne ho parlato, ho già fatto tre video, mi sembra sempre che sto... ...non parlando in maniera chiara, cazzo. Questa cosa mi dà fastidio. Però anche sti cazzi, nel senso, mi sono reso conto che molti dei video che faccio, anche Leopardi schifo, Vigliacco schifoso o altre cose così, quando li ho fatti mi sembravano un po' vaghi, oppure quando li riguardavo mi sembravano vaghi, mi sembrava che in molti punti non avevo proprio pinzato bene il concetto. Però dai feedback delle persone mi sembra che qualcosa passa, poi i miei discorsi li dovete prendere con le pinze e farvene un'idea vostra, farvene un'idea vostra. E questa è l'arte da sempre, concetti vaghi e poi la gente si fa i suoi trip e va bene. E sti cazzi. E quindi mollo questo attaccamento al voler essere troppo chiaro. Porca puttanaccia. Vabbè, sostanza, quello che volevo dire è, abbassiamo la tendina, che la cultura generale, lo studio... Cazzo, porca troia, porca troia, porca troia, porca troia, porca troia, non riesco a parlare vecchio. Fa troppo incazzare, vecchio. Spesso mi viene detto, spesso mi è stato detto che devo studiare di più, devo approfondire questa cosa perché sennò non posso parlare di quest'altra cosa. Concetto a cui ho accennato nel primo video. Ok, io trovo che quest'idea sia sbagliata, punto. Seconda cosa, spesso mi sono trovato in situazioni dove invece io mi precludevo delle direzioni in cui la mia curiosità andava, in cui la mia curiosità tendeva. Io ho detto, no, non sei all'altezza. Entrambe le cose sono sbagliatissime. Eh, sbagliatissime. Non esiste una cultura generale, un sapere superiore a quello di un altro, ok? Le cose non hanno un valore se non all'interno della nostra testa. Ok. Quindi bisogna, ovviamente, come in tutto, imparare a dare valore alle cose che possiedi, alle cose che hai, lasciando perdere quello che dovresti avere, quello che dovresti avere, quello che hanno gli altri, ok? E la stessa cosa vale per la cultura. Certo, la cultura tutti quanti la possono ottenere, quindi perché non ottenerne di più? Gente avida di cultura, gente che a tutti i costi ha bisogno di saperne di più, di più, di più, di più, di più. Così può dire cose più profonde, ma non dici cose più profonde, non necessariamente. Ci sta saperne di più. Se la cosa ti incuriosisce, approfondisci, ma non se tu lavori o se tu cosi in questo determinato settore, allora devi approfondire, devi conoscere tutte le reference, devi conoscere tutti i nomi. No, questa merda ti dà, ti chiude, ti chiude, è quella sottile linea tra cui un artista, si sa che ci sono molti artisti che, cioè nel senso, gira quest'idea, secondo cui artisti vogliono conoscere altri artisti, ma allo stesso tempo non vogliono ossessionarsi sopra questa roba perché se no non riescono ad avere un loro linguaggio originale e si fanno condizionare troppo dagli altri artisti. Bene, è lì che sta la sottile linea di cui stavo parlando. Va bene conoscere gli altri artisti, ma nel mio caso, artisti dico, perché questo vale per tutta la cultura generale, va bene conoscere altri artisti, ma solamente se sei incuriosito da quello che fanno. Facciamo un esempio. Se sei incuriosito dalle informazioni che trovi lungo il percorso della tua vita, ok? Io trovo un libricino per bambini che spiega, cioè per bambini, sì, per ragazzini, che spiega in quattro parole, con un botto di immagini, cos'è Picasso concettualmente, cos'ha fatto, cazzo ne so, la storia della sua vita. Ok. Lo sfoglio, non mi ci vuole tanto, un pochino la cosa mi incuriosisce, non mi faccio né abbattere dall'idea, ah vabbè, queste sono, questa è una descrizione pacchiana di un grandioso artista, quindi meglio non stare a leggere questa roba, meglio non trarre conclusioni e informazioni da questa roba qua, perché non è abbastanza approfondita, e nemmeno una volta letta questa roba costringersi ad approfondire di più per poterne parlare. Questi in realtà i due esempi che ho fatto sono tendenti tutti e due verso la direzione più cultura, però c'è anche un'altra direzione che è sbagliata, ed è precludersi la cosa perché non ti riguarda, per esempio, vedi questo libro, parla di Picasso, sei tipo, a me l'arte non interessa, quindi sti cazzi non lo leggo, ma ti incuriosisce adesso, in questo istante, questo libro ti incuriosisce, lo vuoi leggere o non lo vuoi leggere? Non è questione di mi interessa l'arte o non mi interessa l'arte, vuoi leggere questo libro adesso che c'hai di fronte agli occhi o no? Vuoi leggerne due pagine, tre righe, l'intero libro? Cosa vuoi fare, fratello? Cos'è che vuoi in questo istante? Cos'è che ti incuriosisce adesso? Non lo vuoi leggere? Per l'amor di Dio, non lo leggere, però davvero non lo vuoi leggere o ti stai convincendo che non lo vuoi leggere perché non ti interessa questo argomento? Perché hai deciso a priori che tu sei una persona a cui non interessa questo argomento, tu sei una persona che cambia ogni fottuto secondo e non nel senso che leggi questo libro e tipo ti si apre un mondo e dici oddio adesso mi interessa l'arte, no inizia e finisce lì basta, non ti devi poi interessare all'arte, ora hai due nozioni per bambini nella tua mente riguardo Picasso, sti cazzi, meglio, magari le riuscirei a utilizzare anche per fare un ragionamento, che cazzo ne so? Non precluderti cose solamente perché non pensi di essere all'altezza o solamente perché pensi che non sia una cosa che ti può interessare o perché pensi che non è approfondita abbastanza e che se la volessi davvero studiare allora la dovresti studiare davvero, no, no, butta via tutta quella merda, questa è l'epoca delle informazioni che ti vengono sputate in faccia in quattro righe senza nessun criterio, senza ordine, dall'algoritmo ti arrivano nozioni e cose e non c'è una cultura che valga di più dell'altra e non c'è una persona che valga di più di un'altra e non è un discorso motivazionale quello che faccio, è un discorso prettamente cinico, la vostra cultura non vale niente tanto quanto la cultura di un contadino non vale niente, ok? Però per lui quella cultura è tutto come per te quella cultura è tutto, la tua conoscenza è tutto per te, è tutto quello che possiedi, è tutto quello che hai, è tutto quello che esiste nel mondo, perché certo ti puoi immaginare che esistano altre cose, ma queste altre cose cosa sono se non un concetto che ti sei inventato tu, che sei inventato la società delle altre cose che non conosci, una nebulosa che non esiste. Così ho approfondito Nice, perché dopo anni, incuriosito al liceo da Nice, ne aveva parlato il prof, io tipo, interessante, parla di così parlò Zaratustra, sembrava molto interessante, ma figurati non posso leggere un libro di un filosofo, è da pazzi, cioè non sono, non posso avere la pretesa di leggere un libro scritto da un filosofo, è troppo sbatti, dopo due pagine mi arrenderei. E così per anni non l'ho letto, fino a che due anni fa non mi è tornato in mente, ho detto ma, cioè, boh, posso provare almeno? Massimo leggo davvero due pagine sti cazzi, nel senso posso anche leggere due pagine, non è che nessuno vieta, non è che sei un fallito se leggi due pagine, se tu vuoi leggere due pagine, leggi due pagine, perché tu devi fare quello che vuoi, non quello che si dovrebbe fare. Ebbene, l'ho rubato, perché mi sembrava l'unico modo giusto di ottenerlo, un libro di quello spessore, e l'ho letto tutto e mi è piaciuto tanto, e ho imparato tanto, e ho assorbito tanto, tantissimo, tantissimo, così tanta conoscenza, così tanta saggezza, così tanta saggezza, cazzo. Quello che dico è, se tu conosci tre artisti e vuoi parlare di arte, fai tutti gli esempi riferendoti a quei tre artisti che conosci, anche se la persona di fronte a te ne conosce diecimila, e se lui ti inizia a citare altri artisti, dici, no, 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 io conosco solo questi tre, quindi o mi spieghi questi artisti di cui stai parlando, è bella, ti ascolto, oppure dobbiamo limitarci a questi tre artisti, ok? E dovrai farmi degli esempi riferendoti a questi tre artisti, se no il dialogo non esiste, se no questo dialogo non ha senso, ed è solamente tu che mi sputi in faccia, e io mi rifiuto. Cordialmente, grazie, vaffanculo. O il cinema. Io conosco, per esempio, un po' di... Cioè, conosco il neorealismo italiano, no? Ho visto qualche film. Ma ce ne sono così tanti altri che avrei potuto vedere. Così tanti altri che farebbero dire alle persone a cui dico che conosco il neorealismo che non conosco il neorealismo. Ma io non ci credo alle loro menzogne. Io non credo alle seppie che imbrattano carte. Io dico che quei quattro filmetti che ho visto li ho amati tanto mentre li guardavo, perché li volevo guardare, perché ero genuinamente incuriosito da che cazzo mi stavano per far vedere. Mentre penso che quelle altre persone che invece, a cui invece è stato imposto perché studiano cinema e quindi devono sapere ogni singola minima cosa che cazzo è successo nel mondo del cinema. Non se li son goduti quanto me li sono goduti io. Io me li sono proprio gustati. Me li sono fottutamente gustati quei film. Mentre loro no. Loro no. Loro no. E non ha senso fare le cose senza gustarsele fino in fondo. No, 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 no. Non ha senso. Non ha senso. Non ha senso. Una cosa ti incuriosisce? Lasciati un attimo trasportare. Vedi dove ti porta? Ti annoi? Vattene. Sti cazzi. Anche quest'idea del No, ma se poi provo e fallisco tipo fallisco anche dico semplicemente a guardare un film tipo un po' quel film ti incuriosisce però hai paura che guardi tipo dieci minuti e poi sei tipo non ho più voglia di guardarlo. E allora sti cazzi cambierai film. Amico mio liberati da queste catene di merda. Ai 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 la cultura la cultura generale deve essere presa come serendipidi è una cosa che viene a te tu sei una calamita per cultura generale tutte le cose, tutte le informazioni tutta la cultura che vuoi ti viene continuamente buttata in faccia è sempre lì a portata di mano e non intendo che tipo potresti approfondire questa cosa andando su internet no, dico che è proprio tipo lì è tipo un tuo amico che sta parlando di questa cosa qua lo ascolti due secondi perché ti incuriosisce oppure non lo ascolti affatto perché ti annoia ma mi raccomando fai quello che vuoi non fare quello che dovresti fare e non non fare quello che non pensi di poter fare Dio Santissimo grazie a tutti grazie a tutti